Che strana invenzione le donne riescono a tenere il peso del mondo sul palmo di una mano come fosse una piuma. Sono in grado di assorbire mari di lacrime all'interno di un solo abbraccio. Diffondono fasci di luce ovunque utilizzando un unico meraviglioso strumento, il sorriso. Raccolgono e annullano giorni e giorni di incubi all'interno di un dolce sguardo. Le donne hanno dentro il loro ventre il senso supremo dell'esistenza. Raccolgono e annullano giorni.